Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Direi che il modo migliore per iniziare questo 2021 è quello di parlare di uno dei titoli più attesi su Nintendo Switch, ovvero Hollow Knight Silksong. Il seguito del capolavoro partorito dal Team Cherry, quell'indie a metà tra un metroidvania e un Souls-like che ha saputo stregare tantissimi giocatori, si è finalmente mostrato in una corposa anteprima apparsa sulle pagine di Edge. Dopo aver letto e riletto l'articolo in questo video vi farò un riassunto dei punti chiave che emergono dall'intervista a due sviluppatori, ma vi aspetto anche in live stasera a partire dalle 21.30 per discuterne approfonditamente e rispondere alle vostre domande. Vi lascio il link in descrizione. Come al solito, prima di iniziare, se questo genere di video vi piace, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Dopo quasi un anno di silenzio stampa, i due co-director del gioco, ovvero Harry Gibson e William Pellen, hanno finalmente rilasciato nuovi dettagli relativi a Silksong. Come ormai è noto, il gioco era inizialmente previsto come un'espansione del primo Hollow Knight, per poi piano piano diventare un seguito stand-alone a tutti gli effetti. Il progetto si è ingrandito a dismisura, i tempi di sviluppo si sono dilatati enormemente e Silksong è arrivata ad assumere la forma di un titolo ben più ambizioso del già incredibile primo capitolo. Quello che emerge, chiaramente dall'intervista, è che il gioco è tutto fuorché un more of the same e pur presentando numerosi elementi in comune con Hollow Knight, che faranno sentire a casa i veterani della serie, allo stesso tempo si tratterà di un gioco slegato dal predecessore, un ottimo punto di ingresso all'interno del mondo di gioco. Silksong sarà ambientato a Fall Room, un regno ben diverso dagli intricati cunicoli sotterranei di Hollow Nest. Come suggerisce il titolo, un ruolo fondamentale sarà ricoperto dalla seta, ora vera e propria moneta di scambio, e dalla musica, dato che il linguaggio di questo mondo è rappresentato da simboli che ricordano le note musicali. La differenza principale però è che Hornet, la protagonista, nonché principessa protettrice di Hollow Nest, dovrà affrontare un viaggio prettamente verticale e risalire dalle profondità di Bone Bottom, il villaggio iniziale, fino alla superficie della Citadel, una meta posta sulla sommità del mondo. Gli autori non si sono sbilanciati più di tanto sulla storia, ma in pieno stile metroidvania l'obiettivo di Hornet sarà quello di ripristinare i suoi poteri persi durante un periodo di prigionia. Ad aiutarla nel suo pellegrinaggio, oltre a un vasto cast di NPC insettoidi, ci saranno i Weaver, ovvero le tessitrici, quegli esseri simili a ragni già incontrati a nido scuro, che giocheranno un ruolo fondamentale all'interno dell'economia della storia. Gibson e Pellen promettono una struttura narrativa molto simile a quella vista in Castlevania Lord of Shadows, dove una volta raggiunto l'obiettivo principale, ovvero il castello, questo diveniva un punto di partenza per la seconda parte dell'avventura, così la Citadel più che una meta finale rappresenterà più un momento di svolta all'interno della storia. Molta cura è stata riposta nel rendere vivi gli ambienti di Fall Room, e rispetto al predecessore, Silksong presenterà scenari molto più dinamici che risponderanno in modo coerente al passaggio di Hornet, ma la differenza principale nasce proprio dal cambio del protagonista. La principessa è molto più agile e acrobatica del cavaliere, e queste sue abilità si riflettono tanto nel gameplay quanto nel level design. Le abilità di Hornet, in grado di librarsi con facilità in aria, o anche semplicemente la sua struttura fisica, essendo molto più alta del cavaliere, hanno richiesto un approccio molto differente nella progettazione di ogni singolo elemento di Silksong. Il ritmo è quindi profondamente diverso rispetto a Hollow Knight, e questo lo si nota principalmente nel combattimento, che assume un ruolo primario rispetto alle fasi di platforming puro. Gli stessi avversari sono stati ripensati da zero per adeguare la sfida al nuovo ritmo di gioco, e già dalle fasi iniziali incontreremo avversari equipaggiati con scudi, pattern imprevedibili e attacchi pensati per contrastare le abilità di Hornet. Esplorazione e combattimento fanno affidamento sull'arma principale della protagonista, ovvero l'ago. Il moveset è stato riscritto da zero e fa fede a quanto visto negli scontri contro la principessa avvenuti nei panni del cavaliere. Questa volta però, ad espandere le possibilità offensive, sia attive che passive, ci sono le crest, ovvero gli stemmi. Questi servono per equipaggiare gli strumenti, l'equivalente degli amuleti, ed ogni stemma ha il suo numero di incavi e le sue peculiarità, che si rifletteranno anche nell'add di gioco. Questa meccanica aggiuntiva permette di raggiungere nuovi gradi di personalizzazione del gameplay ed espande notevolmente la complessità di un combat system di per sé già estremamente malleabile. L'altro grande punto di distacco nei confronti del passato avviene nell'importanza data alle sub-quest e all'interazione con gli NPC. Hornet è un personaggio molto più comunicativo del taciturno cavaliere e questo si rispecchia in una complessità narrativa che abbraccia tante strade secondarie e non solo degli eventi quasi casuali in cui incappare tramite la minuziosa esplorazione della mappa di gioco. La lore silenziosa è ancora protagonista indiscussa, ma questa volta viene accompagnata e non sostituita da una narrazione ben più esplicita e organica. Il risultato è un mondo molto più fisico, tangibile, fatto di trappole e tranelli, dove la magia ha molto meno spazio, ma non per questo privo di mistero e fascino e le immagini credo parlino da sole. Purtroppo nell'intervista non viene comunicata una data di uscita ufficiale, ma come l'intervistatore sottolinea, la demo mostrata durante l'intervista propone un gioco che sembra essere nelle fasi finali della produzione, un prodotto molto vicino al completamento. Se quindi possiamo aspettarci di vedere Silksong nel 2021, l'intervista si chiude con un vero e proprio colpo di scena. Il team Cherry sta già infatti pensando al futuro e nonostante si tratti ancora di un progetto embrionale, poco più di un file word condiviso, lo studio è a lavoro sul suo prossimo titolo, che per la prima volta non sarà legato al mondo di Hollow Knight. Poracci insomma, sebbene ormai l'attesa sia diventata snervante, Silksong sembra avere tutte le carte in regola per eguagliare il suo predecessore e perché no, diventare il vero capolavoro di team Cherry. Quindi vi aspetto nei commenti per sapere se anche voi, proprio come me, siete in hype e vi ricordo che se volete ci vediamo questa sera alle 21.30 in live per discutere in modo approfondito dell'intervista e analizzare tutto quello che è emerso dalle pagine di Edge. Come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo al video e se questo genere di contenuti vi piace, mi raccomando fatemelo sapere con un like e ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Polo Silk, Michele Song, ciao!